Tornano gli anni 80 a Shuttleville Graveno. Oggi scopriamo insieme l'anno 1987. Debutta il videogioco Treat Fighter. Record di 46 punti per Antonello Riva nell'incontro di pala canestro maschile Italia-Svizzera. Alberto Tomba è il re incontrastato dello slalom. L'Opel Omega è l'auto dell'anno. In TV va in onda la prima puntata di Indietro Tutta, condotta da Renzo Arbore. Per i più piccoli ci sono Kenny il Guerriero e Polli Anna. Polli Anna, Polli Anna, Polli Anna, Polli Anna. Esce il film L'Ultimo Imperatore, diretto da Bernardo Bertolucci. Vincerà 9 premi Oscar, 9 David di Donatello e 4 nastri d'argento. Dagli Stati Uniti approdano nelle sale italiane Robocop e Dirty Dancing, con Patrick Schweitz e Jennifer Grey. I tormentoni estivi sono La Bamba dei Lost Lobos. Boyz di Sabrina Salerno. Boyz di Sabrina Salerno. E Bella d'Estate di Mango. Bella d'Estate vai via da me. Forse perché ti credevo felice così. Voi che li avete vissuti, che ricordi avete degli anni 80? Ma anche voi più giovani, raccontateci cosa vi sarebbe piaciuto vivere di questo fantastico periodo. Nella prossima puntata scopriremo l'anno 1988. E se questo video vi è piaciuto lasciate tanti like, commentate e condividete. Gli anni 80 sono tornati, quindi restate sintonizzati. Un bacio da Andrea e alla prossima! Grazie. 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 Grazie.